stare in videocall perché ti vuoi la giornata migliore come cosa posso fare per renderti la giornata migliore credo che lo sai e allora perché non puoi allungare ma non so provarlo prova no le sente che le cuffie torna a me eccomi come va posto ce l'abbiamo fatta dimmi una cosa da quanto eri disabilitato allora esattamente sì più o meno di sicuro meno di un mese però se vuoi ok saremo sulle tre settimane tre settimane dai da quant'è che ci lavoriamo oddio una settimana può essere bene sono felice ciao carissimo grazie come è possibile è 24 ore che ti chiamo che sono lì che ti voglio dare la notizia io eri a loro tempo non morto tutto il giorno sono tornato a casa mi sono messo mi sono correcato mi sono svegliato adesso infatti perché ho dormito tutte le noti ma comunque grazie mille grazie mille grazie mille di lavoro ma scusami ma tu ieri hai visto direttamente la storia a quel punto ho messo la storia. Ma l'hai vista la mia storia? Ho messo la storia un'ora e mezza fa. Tra l'altro ho visto pure le mail, però era notte perché non volevo svegliarti o altro e ho visto la storia e ho detto cazzo ma sono io. E poi un passaggio è urgente, pensavo magari fosse, non so, recupero in basso o cose varie. Comunque l'account c'è, tutto perfetto, servizio perfetto. Salve, come stai? Buon pomeriggio, tutto bene a te? Direi alla grande, no? Eh, meno di 24 ore. Da quanto è che eri disabilitata? Un mesetto? Siiii! Grande, grande, grande! Sono felicissimo! Alla grande, grazie mille! Mi aiuto a recuperare la cuenta, per se tiñen algún problema comuniquense con questa persona che è magico. Estoy muy felice, muchísimas gracias! Non se ni che dire, estoy muy contenta, lo siento, me emborracho! Ah!